Uccisione confermata, schiacciate ogni minaccia, non avere fretta e usa il cervante. Tiro una granata! Il vento non sia dato! Non devi ringraziarmi! Mi bloccano! Mi tengono inchiodato! Ora va tutto bene! Mi tengono inchiodato! Mi devi una pinta! Mi tengono d'occhio! Sono bloccato! È la mia vendetta! Lancio una stordente! Nuove informazioni pronte all'uso! Bersagli prioritari marco i contatti ostili! SANGUINARIO! Bomba planante pronta a colpire! SANGUINARIO! Boom! Bersagli! Sono sottotitni! nuove informazioni pronte all'uso c'è posta per noi marco i contatti ostili nuove informazioni pronte all'uso abbiamo un nuovo dossier marco i contatti ostili nuove informazioni pronte all'uso bomba planante pronta a colpire doppia uccisione informazioni cessate non ha colpito marco i contatti ostili doppia uccisione mi fosse dimenticato mi sono bloccato sono bloccato sono bloccato mi 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 sono bloccato Servita fredda, ma sempre gustosa. Richiedo delle informazioni. Prendo delle scorte. Non dà, tendi tregua! Qui c'è una cassa di scorte! Prendo delle scorte! non ti preoccupare nuove informazioni pronte all'uso doppia uccisione abbiamo un nuovo dossier marco i contatti ostili sapevo che potevate farcela